Sindaco, finita la riunione in prefettura, possiamo dire che è già pienamente operativo, quindi il sistema di allertamento a Blevio? Sì, è attivo, adesso dobbiamo fare comunicazioni, è attivo in fase test, abbiamo fatto questa riunione con i vari enti, regione, provincia, prefettura, per vedere di fare il coordinamento sull'utilizzo e appena chiusa anche questa fase poi faremo le comunicazioni alla popolazione per mandarlo nella fase più operativa, per le allerte anche verso la popolazione. Chiara è un sistema che avrà bisogno di un po' di tempo di taratura, però diciamo si è partiti. Ecco, in caso di malaugurata emergenza, Luca, suona l'allarme, cosa succede? Le persone riceveranno delle informazioni di comportamento, di permettersi sicurezza, chiaramente tareremo i volumi, eccetera, per arrivare a diminuire i passi positivi, cioè quelle allarmi che poi non portano a nulla, però chiaramente chiediamo alla popolazione di seguirci in questo e di rispettare queste indicazioni che daremo. Per il momento questi segnali, questi cartelli, solo a Sopravilla, che è stata purtroppo la più colpita in passato? I cartelli sono a Sopravilla, ma ci saranno anche sulla strada provinciale, perché riguardano anche la viabilità e ci saranno segnali sia luminosi che sonori. Poi l'altra cosa è che chiederemo alla popolazione, a chi è disponibile, di fornirci il numero di telefono per mandare un sms sulle allerte, quelle soglie che andremo a definire. È una prevenzione, Sindaco? Ci si augura che non serva? Chiaramente i fondi sono regionali, giusto? Assolutamente, i fondi regionali è all'interno del quadro complessivo delle opere sul dissesto che stiamo facendo, è un tassello fondamentale per il monitoraggio fin quando non saranno realizzate completamente le opere, anche quando saranno finite le opere ha la sua importanza, la sua valenza e poi è una valenza soprattutto per il traffico anche velicolare sulla provinciale, perché negli ultimi anni ogni varia Lugano ha creato problemi anche proprio di disagio e problemi anche ben oltre il disagio sulla mobilità veicolare e quindi ha un interesse anche quindi comunque sovracomunale. E sentiamo l'amministrazione provinciale, la protezione civile, effettivamente anche per voi potrebbe essere un sistema, anzi è un sistema importantissimo, vero? Assolutamente sì, anzi un ringraziamento all'amministrazione di Plevio perché tutti questi sistemi che permettono di ridurre i tempi di intervento e addirittura anche in alcuni casi la previsione e affinare i livelli di previsione sono per il sistema di provincia che opera, va ricordato sul delega di Regione Lombardia, sono per il sistema di provincia un ottimo coadiuante e un anello fondamentale del sistema di protezione civile, quindi grazie all'amministrazione e grazie anche tutti i tecnici, tutti quelli che ci sono dietro l'installazione di questo impianto. Ecco un impianto, chiudiamo Luca, molto complesso, noi siamo andati fin su in cima due anni fa, ecco fino proprio nella valle, siete andati lì a mettere i sensori, giusto e corretto? I sensori sono posti in alto e anche nella zona delle Baite, chiaramente tante tipologie di sensori ci siamo appoggiati all'azienda che è Regione Lombardia è partita per prima a fare questo tipo di opere, per cui usiamo il loro know-how e speriamo di non usarlo. Esatto, speriamo di non usarlo in tutti i sensi determinati, solo in quella di prevenzione. Solo in prevenzione, grazie, grazie, buongiorno. Grazie a tutti.